Un finanziamento di 700.000 euro andrà al comune di Ficarra, 442.000 euro al comune di Frazzanoe ed oltre 1.100.000 euro al comune di Gioio Samarea. Sono risorse stanziate dal Dipartimento regionale dell'Energia, dopo che i comuni sono stati ammessi in graduatoria per soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione. A Ficarra si procederà a sostituire il parco lampade comunale con quelle a LED e poi ad installare un sistema di telecontrollo e di telegestione del nuovo impianto attraverso uno specifico software. Le strutture della pubblica illuminazione di Ficarra risalgono agli anni 70-80. Ci sono 15 quadri di distribuzione e 822 punti luce. Si estendono nel vasto territorio montano e questo rende problematico intervenire, soprattutto in caso di malfunzionamenti. Ora con il nuovo impianto si potranno avviare questi inconvenienti migliorando il servizio. Dopo Ficarra c'è Frazzanoe che ha ottenuto 442.000 euro. Obiettivo anche qui è il contenimento dei consumi con nuovi impianti a LED. Tre saranno le zone di intervento. Il quadro Canapè che comprende la zona nord-est dell'abitato, il quadro Serro che si riferisce alla parte nord-ovest e la strada provinciale 157 Roccalongi. Infine Gioio Samaria con il finanziamento più corposo, 1.139.000 euro. Si riferisce al servizio di gestione degli impianti della pubblica illuminazione con riqualificazione ed efficientamento energetico in partenariato pubblico-privato.